Ehi ragazzi, io sono il vostro Fanny Gamer e oggi giocheremo a Minecraft per PS3. Come vedete siamo tornati nella Survival YouTube. Come vi avevo detto in precedenza, questa sarà una serie. Non ve l'ho chiesto perché evitavo. Scusate se non ho tolto il volume del gioco, mi sono scorgato, è difficile. Comunque, non mi sono messa la mia skin, quella del canale, perché volevo preparare un po' le nuove skin che ho comprato. Le skin che ho comprato sono tipo la... no, il Mashup Pack, non so cosa significa in italiano, però. Comunque l'ho comprato, quello è anche Little Big Planet, che a mio parere è molto bello. Cioè, molto bello tipo da utilizzare, no? Ecco. Questa puntata volevo cercare di sviluppare un po' la casa, anche tipo di andare in altri posti, tipo nelle miniere o robe del genere, no? Anche se abbiamo già sotto a casa una bella montagnetta da... da... La cosa, ovviamente, da sistemare. Sì, potrei male darla. Volevo fare il tetto con il vetro, perché a me sembrava un po' una cosa più bella, no? Il tetto con il vetro. È vero, mi sono ricordato che il vetro non te lo droppa il vetro, il gioco. Ce l'ho ricordato ora. Ce l'abbiamo quello... Eh, no, ce l'abbiamo. Io questo non so se un po' se un po' a spaccare. È fine della storiella d'amore. Perché c'è... Guarda, se ne prendevamo un altro, ero già stupito, eh. Comunque, non so se questo sarà un video divertimento, un video survival, o comunque, vi volevo chiedere... Volevo dire una cosa. Se raggiungiamo i tre like, farò il secondo episodio di Minecraft a divertimento. A Minecraft a divertimento, oppure nel server amici. Decidete voi sotto nei commenti. Il commento, cioè... Ormai è un po' difficile, per me è un uccio che ho pochi iscritti. Quindi, quello che sarà scelto di più, la votazione, cioè la votazione più votata, il mio bel italiano, sarà scelta come fare nel prossimo episodio. Quindi, raggiungiamo i tre like per il prossimo video. Ok. Per ora, in questo mondo, non saprei esattamente cosa fare. Vedete anche questo crafting, non come l'altra volta, perché, praticamente, ci è stato un piccolo problemino. Non so come si modifica, cioè, so come si modifica, però non avrei, cioè, non vorrei farlo, ecco, praticamente. Non vorrei farlo. Se sentite rumori di sottofondo, ci sono dei fulmini che mi aspettano, voi, scherzo, non mi aspettano. Volevo fare così un video, un po' survival, così un po' in fretta, in fretta, perché volevo, perché io devo andare al cinema, un po', quindi, un po' complicaticcio, eh. Complicaticcio. Quindi, volevo provare a fare la casa, un po' a finirla, praticamente. Comunque, volevo finire la casa, perché ho tanti blocchi di legno che potrei utilizzare per altre cose. So che, per me, fare la casa con legno è una cosa stupida. Ma, già che lo faccio, continuare, è meglio continuare, no? Non ci dobbiamo fermare a questo punto. Ah, già, volevo, per le mie forze, cosa che è, un pochino più semplice, fare le pedane. Non so se ci saranno. E poi c'è questo, c'è questo, c'è questo, e gli stendardi, raga, gli stendardi, no? No. E ci sono gli stendardi, e poi qua scegli, 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 scegli stendardo, copia stendardo, non so cosa fare, bro, c'è, raga. Qua, intanto andiamo a dormire, perché sennò, c'è, non puoi dormire, posso dormire solo di notte, eh già, posso dormire solo di notte posso dormire, raga. Chissà perché, forse adesso non è notte, ecco. Questa non succede, la parte di survival è un po' così, così. Come avete visto, le modifiche nell'ultimo video, quello che vi presento, il server, quelle modifiche tipo funnygamer che c'è scritto, iscrivetevi, o tipo quelle robe lì, le fa una mia amica, è molto brava, non ha un canale YouTube, però sotto nei commenti scrivete hashtag ingegnere. Quell'amica mia è molto brava a fare queste cose, ci ha messo tanto, quindi, molto brava, quindi scrivete hashtag ingegnere. E scrivetelo bene, eh, dai scherzi, scrivetelo come volete, dai. Quindi, adesso, visto che qua c'è la sabbia, io la prenderei la sabbia, raga, perché devo fare il vetro per la mia casa, perché se no, c'è la casa la vorrei fare in tetto di vetro. Per esempio, è un po' più bella, anche se potrei fare un secondo piano, eh, anche perché posso fare pure le scale. Poi un legno, perché si possono fare anche le scale. C'è un mio amico che dice che le scale si fanno con la pietra, perché ai minecraft esistono le scale con la pietra, io non l'ho mai sentito dire da nessuno, a parte lui. Boh, forse non gioca mai, questo non lo sa, ma io non ho risultato, perché c'è, cioè, non lo sa, non lo sa, lo sa, lo impari a arrancare. Il futuro, no? Sono raccogliendo questa sabbia, anche se so che è più facile prendere con la pala, ma è più divertente con le mani, dai. Tanto adesso, che credo che la sabbia basterà, arriviamo fino a 30, ecco, mi basta 30. questa schiena del calzino è molto insolita. Qua sotto cosa c'è? Non c'è nulla. C'è un buco nella montagna. Vorrei sapere, vorrei trovare del carbone, tipo delle robe così, o dei mosti che gli spaco la testa. Non so come faccio ad avere... 4 di esperienza, non vi dico... ah già per le mucche che avevo ammazzato. Comunque con la mia amica mi ha detto che non si sente bene il volume, l'ha sentito solo mentre uccidevo le pecore, le mie amiche pecore. Comunque, un'altra cosa che vi volevo dire, comunque se sentite sotto il fondo sono i miei genitori tranquilli, volevo dire che questa sarà una serie, ve l'ho già detto, anche Minecraft a divertimento. Per ora io non so ancora come mettere... come registrare su... proprio sulla PS3, così si... cioè che si vede proprio sulla PS3. Non ho ancora imparato, ma anche se lo imparassi, non capirei comunque come metterlo sul mio canale. Se lo sapete scrivetemi sotto nei commenti come si fa, così almeno nei prossimi video proverò a mettere le robe. Bene, ci proverò. Poi abbiamo due, 3 su Playtees, che le mettiamo qua, così quando entriamo in casa, è tutto ok. E vorrei mettere pure le scale, queste due, anche se ce ne erano quattro... va bene, se prego. Ecco, così tipo, allora vorrei un po' modellare, perché nel mondo di un mio amico, che parlo sempre italiano, abbiamo fatto, visto che la nostra è survival, tipo così, abbiamo provato a creare una roba. Un genere, una cosa facile, bella, facile, bella. Cioè, almeno io l'ho creata perché lui andavo a cercare altre robe, ma non importa. Non lo sto prendendo in giro se qualcuno lo vorrebbe scrivere nei commenti, eh, volevi... No, dico solo che... facevo altre robe, ha creato le mele d'oro, quindi dimmi te. Sto facendo delle scale, non so come, in che modo, però le sto facendo. Mi è venuta questa idea, ma... non so... Io avevo anche un altro canale, solo che purtroppo... Dico purtroppo... Il telefono era di mia mamma, si è scacellato, cioè era tutto buggato il telefono, e ormai adesso... Cioè, adesso, continua a non funzionare, è proprio rotto, non va. Quindi, spero... che si esisterà, ma... dubito, dubita tanto. Madonna, anche qua mi sarebbe il full plate, però... Andrò si chiude dal suo momento. Lo spacco un attimo, che bento! Io l'ho preso benissimo. Finisco qua sopra la cupola di vetro che ho cercato di fare. Credo che costruirò anche un server di pvp. Quindi, se voi parlare... cioè, se voi avete il microfono, potete entrare. Ma anche se non ce l'avete, tranquilli. Basta che quelli che mi seguono parlano italiano, perché sennò è inutile che venite nel mio server. Io so l'inglese, è solo che è un po' difficile, eh. Perché io anche ho degli amici inglesi, parlo inglese su Minecraft. Con quegli amici vieno con voi. Cioè, non parlerò inglese con voi, perché... vabbè. Passaggio al gioco offline mi succede ogni volta. Mentre, ecco, passaggio al gioco offline vuol dire che... In questo mondo adesso giocherò offline, vuol dire che gli altri non possono darci qua. Praticamente. 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 Praticamente è una frase che io odio, proprio la odio. Quella che la usano non mi offendete, solo che non è che sia tanto intelligente. Ok. In questo video abbiamo un po' sviluppato la casa. Forse adesso andiamo anche in caccia. Oppure prendiamo... Costruiremo la zappa, prendiamo le cani e la pesca. Le clane da plesca. Le fanno in bambuse qua. Comunque. Per metterle... tipo, farò una spiaggiettina. Farò tipo una spiaggia, sì. Ci proverò ovviamente. Questa serie si svilupperà tanto. Si svilupperà tanto. Si svilupperà tanto. Buongiorno pollo signore. Si svilupperà tanto. Non sono sicuro perché se l'ho già... Faccio pochi episodi, eh. Pochi episodi. Perché ho anche da fare, comunque. Quando tipo in estate farò molti più video. O anche a Natale. Farò video dedicati a Natale. Nel mondo quello la farò roba di Natale. Cioè nel mondo degli amici farò anche Natale. Scusate che mi è perso tipo una casellina al telefono. Ecco, scusate. Avete visto che si è mosso. Ma tranquilli. Vorrei andare a cercare le mucche. Perché mi serve la pelle. Per farmi l'armatura. Almeno quella iniziale di pelle. Allora. Questo cortipiglio morirà. Morto. Non gli ho droppato la carne. Molto gentile. C'è il bottino dei amici. Perché se si vede ho... Coscetta di maiale cotta. E bistecca. Non so se è della mucca. Comunque vabbè. Non so se ho messo in manti alimentari o no. Alla mezza. Perché, ecco. Io mi chiamo così in Minecraft. Leggete. Se non leggete, vi avvicino un po'. Si, si vede, si vede. Ok. Mi chiamo così. Mi richiedete l'amicizia. Poi, in futuro, cancellerò degli amici che non mi hanno accettato l'amicizia. Scrivetemi sotto nei commenti. Commenti. Scrivetemi sotto nei commenti come vi chiamate voi su Minecraft. E nulla. Adesso. C'è. Io sono andata all'ora. Sotto la mia casa, cercare la sabbia. E qua c'è un laghetto. Un fiumiciatolo, quello che è. Qua c'è una grotta. Questa, vabbè. Il video lo potrei finire anche qua, ma sarà troppo corto, secondo me. Allora. Cosa potremmo fare? Potremmo fare anche la casa là. Potevamo fare la casa là, perché ormai. Ah, c'è un altro porchi pig. Ci sono due porchi pig. Lega. Comunque. E' un bastardino. Vieni qui. Ok. Abbiamo questa esperienza. Tutti sembra tipo. Raga, troppi porchi pig. Io, vabbè. Sono pieno di civetto. Perché è abbastanza utile. Non so. Ci sono fulmini. Cosa mia. Cioè, poi da casa mia ci sono fulmini e roba del genere. Non so cosa erano. Cioè. Non so neanche perché. In realtà non era prevista. La tempesta. Quello che resta a succedere. Non era prevista. Proprio. Sommetto. Non era prevista. Non so perché. Iscrivetevi anche al canale di Knight. Lo troverete forse un po' difficilmente. Ma se commenterà questo video. Con l'hashtag. E mi consigliere qualcosa di decente da costruire. Non scrivetemi comunque cose stupide. Come. Sapete due cosa. Perché. Io queste robe non le faccio. Senti. Tipo. Hotel. Che è. Più decente. Oppure. Osservatore. Una roba del genere. Ok. Prendiamo questo carbone. Direi che il video può finire qua. Abbastanza corto. Non lo so. Forse. Spero di no. E. Cavolo. Ma c'è tanto carbone qua. Visto. E li mettiamo in sesto. Ok. Raga. Ok 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 ok. Ok ok ok. Non dice gesciermi. Ascolta che sta mig CI. roba c'è ho visto il video può finire qui ovviamente raga quando c'è un porchi pig ammazzare bene raga che schiena fige non si vede manco bene spada buttata aspettate che cambio skin la nostra dai la nostra bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale lasciate un pollicione in su mi raccomando arriviamo a 3 like e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi